Ben trovati per la nostra rassegna stampa come anticipato prima di questa brevissima pausa parliamo di sport lo facciamo a partire dalle pagine del giornale dell'Umbria a Perugia, poker del Grifo, applausi a Drolet 4 gol alla Fermana in serie D, doppietta dell'Ivoriano, reti di Volta e di Carmine, indolenzimento muscolare si ferma Fabinho, questo è il resoconto dell'amichevole per Terni, Riacco Dianda, un premio alla volontà, l'esterno burchinese resta con la Ternana ora però servono altri innesti dal mercato Gubbio Attac, due strade per la Lega Pro, domani Alconi verrà discusso il ricorso per la difesa idea Burzigotti e ancora sulla preparazione prima doppia seduta in ritiro allo studio il calendario dei test parliamo anche di Foligno, K.O. a testa più che alta, il titolo che riassume la partita amichevole con la Juve Stabia che si impone per 3 a 2, ottima prova dei falchetti in gol con Ubaldi raddoppio su un autorete e per il volley Superlega Sir Conad voglia di titoli, ufficiale il nuovo binomio Sirci e Toppetti in coro, squadra più forte questo è lo sport del giornale, il Corriere Perugia saluta Sarnano con un'altra festa, 4 gol per 400 tifosi già caldi provato Rizzo al centro della mediana, poi Fabinho deve uscire e Bisoli schiera cuberti da trequartista volta di Carmine, due volte il giovane Drolet e Valdes della Fermana su rigore firmano il 4 a 1, prove di difesa 3 nel finale per i Grifoni treni del gol, entra nel vivo, Jean Sey in attesa per la Ternana si devono chiudere le indagini della procura di Catania e si deve stabilire la posizione del difensore delle fere per la Serie D, il Falco spaventa la Juve Stabia e in porta arriva Pegorin classe 96, finisce 3 a 2 per Torrente a Gubbio, è stato tesserato il portiere ex Entella al Beniamino Ubaldi, tante indicazioni per giunti, Biscarini è passato ufficialmente al Matera il Gubbio lavora al Barbetti, corsa, partitella e stretching, tutti a sudare in campo mercato, oggi summit con Radi e con Salvo Cordova sudacquino anche Burzigotti, ieri in sede Falconieri, Mariani a riposo calcio scommesse, oggi o domani i deferimenti e ancora per lo sport, siamo alla pesca sportiva Moscati in trionfo a Treviso, il suo club azzurro 2015 Leo Gubbino Trevano d'adozione del club Fario è il più forte d'Italia Fidera al nostro portacolori le selettive per il mondiale a disposizione del CT, dice Moscati nell'intervista del Corriere dell'Umbria per il volley a 1 maschile, Conad e Sir insieme per vincere Toppetti, abbiamo fatto un salto ulteriore vogliamo far piangere di gioia i nostri tifosi il presidente Sirci con il suo sostegno puntiamo in alto ed ora lo sport dalla nazione Grifo, Poker alla Fermana Volta sblocca, Drolessi esalta ultima amichevole per la formazione di Bisoli nel ritiro di Sarnano Parigini ai box, Fabinho si ferma slittano i debutti di Belmonte e del Prete Dianda, contratto rinnovato Livoriano raggiunge i compagni finalmente qualcosa si muove nell'organico della Ternana e per il volley a 1 maschile la Conad, il nuovo sponsor che affianca la Sir Perugia per il tennis Gubbio avanza Michele Chiuchiu che entra negli ottavi di finale chiudiamo con lo sport dalle pagine del messaggero Grifo, Alassan, modello Evra arriva il difensore esterno che si ispira al campione della Juve Latina ha lasciato buoni ricordi Bisoli lo ha battuto ai playoff con l'arrivo del ganese difesa quasi a posto se la Fiorentina molla Egasi il reparto si completa con la cessione di Rossi intanto per la Serie D da Città di Castello forze fresche, spadaccia, vicepresidente si parla anche di volley più impegno per dare un trofeo alla città per la Sir Safety nuovo main sponsor PAC 2000 Conad in campo per crescere ancora in breve ciclismo Mocaiana ok con Cosentino e sempre per lo sport siamo al Foligno che spiega Simone Lini cresce bene testo ok con la Juve Falchetti KO 3 a 2 con le Vespe buon primo tempo tensione con i tifosi del Gubbio dove si disputava appunto la partita amichevole e siamo alla Ternane il primo vero colpo è Salif Dianda sorpresa la società rinnova il contratto al giocatore del Burkina Faso dopo il grave infortunio che lo ha lasciato fuori per quasi due anni intanto Toscano a chiedere in forza e pressa Simone Longarini Vittorio Cozzella sempre più spaesato questa era l'ultima notizia della rassegna stampa di oggi e come sempre vi ricordiamo il nostro sito www.trgmedia.it la nostra applicazione scaricabile per iOS e Android TRG Live ma anche l'appuntamento in video questa sera con i notiziari e le notizie dai territori grazie come sempre di averci seguito dalla redazione e dalla regia un buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti